Anche quest'anno si è tenuto presso il comunale Valentino Mazzola di Milena il torneo Memoria all'Alfredo Cordaro, il giovane milenese prematuramente scomparso poco più di due anni fa in un incidente sul lavoro. Gli amici di sempre, i compagni di squadra e tutta la comunità sportiva di Milena si sono radunati per onorare la memoria del giovane in un clima di assoluto divertimento dove il gioco e la sportività hanno avuto la meglio prima di lasciare il campo ad un po' di inevitabile emozione. Allievi, giovanissimi e di più attempati over 35 si sono sfidati a suon di golle in una buona cornice di pubblico che nonostante il caldo non ha fatto mancare la sua presenza. Nino Saia, anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con il secondo Memoria all'Alfredo Cordaro, un appuntamento ormai fisso possiamo dire per la nostra comunità? Sì, è un appuntamento che non può mancare sia nel nostro paese che nel cuore di ogni cittadino. Nell'occasione penso che tutti ricordano ancora Alfredo, il ricordo è ancora vivo e quindi abbiamo continuato con quello che avevamo iniziato l'anno scorso, ampliando il torneo a quattro squadre e speriamo di migliorarlo anche l'anno prossimo. La risposta delle persone c'è, la sentiamo perché la tribuna è sempre piena e noi ci mettiamo al massimo del nostro impegno per la buona riuscita di questa manifestazione. Abbiamo potuto vedere che comunque nonostante la ricorrenza lo spirito è molto gioioso, si ride, si scherza e forse un po' permettimi di dirlo quello che voleva Alfredo. Sì, era proprio questo. Lui piace ricordarlo così, nella gioia, giocando al calcio tutti insieme senza nessuna lite, solo con un po' di spirito sportivo in più a livello agonistico ma niente di che, non è importante chi vince, è importante esserci. Piotona, uno degli organizzatori di questo bellissimo evento, qual è l'emozione di organizzare per la seconda volta questo torneo? Innanzitutto sono molto contento che stai riuscendo alla perfezione per questo secondo Memorial Alfredo Cordaro, anziché perché abbiamo integrato con una nuova squadra i Juniors per dare opportunità agli amici apparenti di disputare questo secondo Memorial. Per quanto riguarda la manifestazione vedo che stai riuscendo molto bene, c'è molta affluenza di pubblico e sono molto soddisfatto della prima partita, gli Over 35 abbiamo già onorato la prima impegno anche se abbiamo perso 2-0. Allora passiamo dal serio al giocoso, un pronostico per questo torneo? Io spero che vinca il migliore, però noi ormai lottiamo per la finale terza e quarto posto e speriamo che ce la giocheremo al meglio. Sindaco Vitellaro, sono sempre belle manifestazioni queste che coinvolgono un po' tutto il paese possiamo dire, dai giovani agli Over 35. Alfredo meritava la presenza di tutti quelli che hanno giocato a calcio, oggi è la festa per Alfredo, non lo dimenticheremo mai e sebbene abbiamo perso un dettaglio di poco conto ci rifaremo con la seconda partita. Vorrei ringraziare gli organizzatori, vorrei ringraziare Enzo Provenzano e Piotona che hanno avuto la capacità di coinvolgere tutti quelli che si occupano di sport. Naturalmente, sicuramente ci sarà una terza edizione, ci impegniamo sin da adesso per il prossimo anno perché noi non ricorderemo mai Alfredo sportivo. Ringrazio per la collaborazione tutti quelli che si sono impegnati e naturalmente vingeranno sicuramente i ragazzi che hanno costituito gli allievi di Alfredo perché vedo che ci mettono un impegno sovrumano. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la bellissima iniziativa. Vedo che c'è tanta gente anche sugli spalti, vuol dire che la manifestazione sportiva è stata sentita. Grazie anche a voi per aver dato l'opportunità di conoscere e di vedere queste immagini al Paese e perché no anche fuori.